Siamo in un paese di circa 400 abitanti, Molise, che è una regione rurale dell'Italia meridionale. È un paese che nel corso degli ultimi 30 anni ha visto la maggior parte dei propri giovani emigrare per motivi di lavoro. La decisione del sindaco di chiudere un centro di accoglienza per migranti ha scatenato, cosa piuttosto rara, la protesta di larghissima parte della popolazione. Questo che vedete è il bar di proprietà del sindaco, il bar centrale del paese. Ora per protesta moltissimi abitanti del paese non frequentano più il bar del sindaco. Il lavoro che ho fatto per raccontare tutta questa vicenda è incentrato sull'assenza. L'assenza dopo un anno e mezzo di questo gruppo di migranti che aveva saputo integrarsi e ripopolare il luogo che per eccellenza è il luogo di incontro dove le persone si parlano, si raccontano, è diventato un posto silenzioso, vuoto. L'assenza dopo un anno e mezzo di questo gruppo di migranti che aveva saputo un anno, si raccontano, è diventato un anno e mezzo di questo gruppo di migranti che aveva saputo un anno. Grazie.